esistono i rami alternativi la nostra realtà è effettivamente la realtà sacra cos'è la teoria delle stringhe e perché potrebbero esistere degli universi paralleli a quelli in cui viviamo tutte queste domande che a primo impatto vi sembreranno poco chiare se non addirittura assurde possono essere riassunte con un'unica domanda fondamentale il multiverso è reale gli scienziati da anni si interrogano su questa teoria che sembra legittima in questo video scoprirete che tutte le informazioni necessarie per avere le idee chiare su questo argomento tanto complesso quanto affascinante ed inquietante allo stesso tempo prima di cominciare è bene fare chiarezza su un aspetto fondamentale ovvero cosa si intende quando si parla di multiverso un multiverso è una speculazione teorica della fisica cosmologica che suggerisce l'esistenza di universi paralleli con proprietà fisiche diverse dal nostro questo suggerisce che ci potrebbero essere un numero infinito di universi ognuno con un insieme unico di leggi e costanti come la costante gravitazionale o la velocità della luce questa teoria è stata proposta per spiegare l'enorme diversità e complessità dell'universo il che ci farebbe dedurre che il nostro universo non è l'unico possibile tuttavia attualmente non esiste una prova definitiva dell'esistenza del multiverso e rimane un argomento di discussione e ricerca attiva nella comunità scientifica il concetto di multiverso è stato teorizzato da diversi scienziati e fisici teorici nel corso del tempo tra i più noti ci sono hug everett terzo che ha sviluppato la teoria dell'universo a molti mondi nel 1957 bryce de witt che ha esteso il lavoro di everett ha introdotto il termine multiverso andrei lind che ha sviluppato la teoria dell'inflazione cosmica che suggerisce l'esistenza di un numero enorme di universi inflazionari max tegmark che ha sviluppato la teoria degli universi matematici secondo cui l'universo è una struttura matematica che esiste in modo indipendente dal nostro universo fisico stephen hawking che ha anche espresso l'idea di un multiverso nella sua teoria dell'universo stringente ma la sua posizione sulle implicazioni del multiverso è rimasta incerta nel corso degli anni come accennato in precedenza vi sono stati molti dibattiti e studi inerente alle evidenze a supporto del concetto di multiverso una delle evidenze a favore della teoria dell'universo è il fenomeno della costante cosmologica osservato nei primi anni del 1900 la costante cosmologica sembra suggerire che l'universo sia in espansione e molti scienziati credono che ciò sia dovuto all'energia oscura una misteriosa forma di energia che sembra permeare tutto lo spazio tuttavia alcuni scienziati suggeriscono che la costante cosmologica possa essere spiegata dall'esistenza di un'infinità di universi paralleli ognuno con la propria costante cosmologica altre evidenze a favore del multiverso provengono da variazioni della radiazione cosmica di fondo nell'abbondanza di elementi leggeri e in altre osservazioni astronomiche tuttavia la teoria del multiverso rimane ancora in gran parte una speculazione teorica non è stata ancora dimostrata in modo definitivo attualmente la teoria del multiverso viene considerata in diversi ambiti della fisica e dell'astronomia tra cui la terapia delle stringhe la relatività generale e la cosmologia sì anche la teoria delle stringhe quella oggetto di studi all'interno della famosa serie tv statunitense the big bang theory questo è un aspetto interessante non trovate se ci pensate negli ultimi anni questo concetto del multiverso è diventato virale all'interno della cultura pop odierna basti pensare all'universo cinematografico della marvel o della dc comics alle serie tv precedentemente citate il che è sicuramente utile per far sì che le persone poco esperte in tale ambito i più giovani ma anche più anziani possono interessarsi a questa materia affascinante ma perché consciamente o inconsciamente ci interessiamo tanto a questo multiverso probabilmente te lo sarai chiesto anche tu vediamo allora come il multiverso potrebbe cambiare la nostra comprensione dell'universo in cui viviamo pensa se ad esempio si scoprisse l'esistenza di molteplici universi ciascuno con le proprie leggi fisiche saremo costretti a ripensare la nostra concezione di realtà e a riconsiderare la nostra posizione nell'universo fino ad ora concepito potrebbe anche risolvere alcune delle attuali contraddizioni della fisica teorica come la discrepanse tra la relatività generale e la meccanica quantistica queste due teorie infatti sembrano incompatibili quando si cerca di usarle insieme per descrivere l'intero universo poiché i fenomeni della gravità e della meccanica quantistica sembrano opporsi tra loro per fare ulteriore chiarezza la relatività generale è una teoria scientifica proposta da albert einstein nel 1915 che descrive come la forza di gravità non sia una forza a distanza ma piuttosto una manifestazione della curvatura dello spazio tempo causata dalla presenza di masse ed energie in altre parole la massa e l'energia di un oggetto deformano lo spazio tempo circostante e questa deformazione determina come gli oggetti si muovono in questo spazio deformato la relatività generale ha importanti implicazioni cosmologiche e ha fornito una spiegazione dell'espansione dell'universo e dell'esistenza dei buchi neri tra le altre cose inoltre conoscere l'esistenza del multiverso potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra comprensione della vita e della consapevolezza stessa potremmo scoprire che la vita la coscienza e l'intelligenza sono fenomeni comuni a tutta la realtà multiversale o che la nostra esistenza è solo una piccola parte di un panorama più vasto e complesso in conclusione l'esistenza del multiverso se dimostrata potrebbe portare a una rivoluzione nella nostra comprensione dell'universo e della nostra stessa esistenza sfidando le nostre concezioni attuali e spingendoci a esplorare nuove frontiere della conoscenza umana siamo giunti al termine di questo video il cui scopo era quello di fornirti una panoramica sul multiverso e soprattutto capire se è reale o no spero che le informazioni date durante la nostra chiacchierata vi abbiano aiutato a capire l'argomento se questo video ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti al nostro canale per attingere ai nuovi contenuti in arrivo e di condividere il video